Una ripartenza di slancio, quella del commercio in Sardegna, per sostenere la quale è fondamentale comprare sardo. Con fartigianato Imprese Sardegna approfitta della seconda parte della fase 2 per augurare il meglio a tutte le imprese e i lavoratori dell'isola e per ricordare che l'economia sarda riprenderà se tutti le diamo una mano. I prossimi giorni per gli imprenditori isolani potranno essere molto difficili perché fungeranno da cartina tornasole su quali settori del commercio conosceranno maggiori difficoltà e quali saranno le sfide più grandi nell'intercettare i nuovi bisogni e le nuove necessità del post-lockdown. Per questo motivo Antonio Mazzuzzi, presidente di Confartigianato Sardegna e il vicepresidente Daniele Serra inviano un messaggio di incoraggiamento ai cittadini e a tutte le realtà imprenditoriali della Sardegna. Oggi anche in Sardegna riprende l'attività la quasi totalità delle imprese artigiane e dei dipendenti, scrivono Mazzuzzi e Serra. Di questa ripartenza siamo molto contenti e per questo vogliamo mandare indistintamente a tutte le realtà produttive e a tutti i lavoratori il nostro più caro in bocca al lupo. A tutti i sardi invece vogliamo lanciare un appello. Ricordatevi di chi in tutti questi giorni ha sofferto non potendo lavorare e di chi facendo sacrifici enormi è riuscito a soddisfare in ogni caso le vostre esigenze. Per questo comprate sardo, andate nei negozi e nelle botteghe e servitevi dagli artigiani. Aiutate l'economia della nostra regione a ripartire. Un lavoro collettivo per rilanciare l'impresa che va dalle azioni di sistema per la promozione del Made in Sardegna e del Made in Italy ai contributi per le imprese che sono rimaste bloccate negli oltre due mesi di lockdown.